Importante la visita del Ministro qui in Val di Non, a visitare le strutture e a capire quali sono i progetti che questa realtà produttiva ha per lo sviluppo del futuro di questo settore. Crediamo ci siano tante possibilità che si possono sfruttare in collaborazione con il Ministero, quindi sicuramente il Ministro ha potuto capire l'importanza e la portata dei progetti che gli sono stati presentati.